Ogni giorno cerchiamo qualcosa che ci renda la vita più facile. Un'attività impegnativa e a volte sgradevole, come innaffiare, può diventare divertente e gratificante. Con Yo-Yo! Yo-Yo è il tubo innovativo che si estende da solo. Robusto, compatto, maneggevole, leggero. In una parola, rivoluzionario. Yo-Yo non si attorciglia e non fa nodi. Poco peso, zero fatica. Per questo è maneggevole e facile da usare. Resistente anche su superfici difficili. La pistola regolabile permette di usare il tubo in diverse situazioni. Comodo e veloce da avvolgere, senza alcuna fatica. Si svuota rapidamente. Ogni getto è personalizzabile. Per questo, Yo-Yo è ideale in tutte le occasioni. Quando innaffi il giardino o il balcone. Quando lavori nell'orto. Quando ti dedichi alle pulizie. Usalo ovunque e portalo sempre con te. Puoi portare Yo-Yo anche in campeggio e in vacanza. Perché si adatta perfettamente a qualsiasi situazione. Yo-Yo è un tubo resistente. Che garantisce un flusso d'acqua costante anche in caso di schiacciamento. Oggi, con Yo-Yo, innaffiare è un gioco. Io-Yo, innaffiare è un gioco.